Un presidio ancora più forte e reale del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, da parte dei vigili urbani e quindi del comune di Napoli. Questo è il primo punto. Secondo punto, videosorveglianza nella scuola e attorno alla scuola. E da questo ho sentito parole confortanti del ministro Bussetti che sarà in contatto con la scuola per cercare di far sì che ci sia il progetto per la videosorveglianza. Terzo punto, ci vuole assolutamente, chiaramente non vale solo per questa scuola, un piano di sostegno vero alle famiglie e dall'altro lato un piano di assunzioni enormi di assistenti sociali. che siano formati, che siano nuovi e che arrivano a supportare finalmente il comune di Napoli per le esigenze che realmente ci sono.